beh ragazzi non so come diceva questo video mi sono spaccadaggio bentornati questo non vediamo video insieme a mio fratello spaccafla ricchi metti pronto oggi siamo qui sul gioco della vita siamo nella siamo nella versione natalissia benvenuti all'hande anglide ed è tutto natalissimo bello vediamo chi gioca per primo inizia spaccafla bravo vai vai tocca a te devi scegliere se vuoi fare la carriera o l'università pescatore artico al calcetta ma quello guadagni di meno ma ieri chi devi girare la ruota ah purtroppo sono automatico 4 metti insieme quello dove guadagni i soldi te lo consiglio gira di nuovo e come si fa ehi come hai fatto prima devi girare no come si fa a guadagnare i soldi eh c'è scritto lì in sotto se guadagno perdi i soldi comunque gira la ruota adesso allora ragazzi perchè questa è la nostra prima volta che giochiamo il gioco della vita tocca a me adesso 1 bene ho perso 100 mila euro ho perso 100 mila euro se li vedete a te mi fa un culo grazie Dani cosa hai messo Dani? università ho già finito tutti i soldi ho perso sono sotto di 50 dollari ho perso no 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 un debitato pro di un prestito si vediamo che lavoro mi dà kasih ok 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 ragazzoni scrivete sotto nei commenti che figata l'esploratore ho come lavoro ti tocca adesso sempre me scrivete sotto nei commenti se vi piace questo giochino lasciate un bel like e iscrivetevi al canale che siamo arrivati e 64 iscritti vai Ricky gira vediamo se riesco a recuperarmi i miei 100.000 euro se non so perderti 100.000 euro te lo dico vai ho vinto io hai perso i 100.000 euro Ricky come cambiato un cazzo allora dove hai dati? io sono dati vai chi tocca? tocca a Riccardo allora che cazzo dobbiamo? devi girare bello uno mi hai dato 50.000 euro uno anche a me io ho guadagnato 50.000 euro vediamo no vado alle scene di chitarra per 200.000 euro vai ho perso i 800.000 euro che figata ragazzi sto diventando povero già mi sono indebitato ho un debito con la banca mamma mia ragazzi quanto sono povero vado vado lo fa qua si ok tocca a me ragazzi ok un numero alto per favore 9 vabbè buono 9 ho perso 50.000 euro perché? vabbè non li guadagnati ok stop vediamo no rimaniamo single non voglio sposarmi perché poi perdo un sacco di soldi secondo me per l'anello per le robe io sono povero no no rimaniamo singoli puntiamo tutta la carriera ragazzi ho perso i 50.000 euro vabbè guarda quanti soldi ho fatto lavoro scegli scegli otteni un aumento per vedere crescere il tuo soldato ok ah no io ottengo un aumento vai ricky ho aumentato il mio lavoro che bello ok allora ma che schifo dai ma che cazzo non vuol cosa fai ricky vai ricky clicca ok tocca a me ok qualcosa bisogna fare investimento famiglia allarga la tua famiglia per conseguire eh ma io non mi sono sposato quindi investi nel tuo futuro per ottenere vai soldi soldi un sacco di soldi ricky sono ricchissimo ho 750.000 euro ragazzi magari li avessi nella vita mi compro una villa perchè io sei presti cazzo di numeri bassi ahahah ma te ti vuoi sposare o vuoi rimanere single oh ho un singolo poi devo spiegare già ho 360 euro eh mi copi ragazzi che mi copiano che cazzo dici io faccio dieci eh devi girare è girato eh gira meglio ma dai che cazzo di gioco bastardi poi la foto è andata a nove non me la faccio aspetta ericchia questo è uno smartphone che cazzo è il tuo regole e magari non ce l'hai uno smartphone ok tocca a me ragazzi ma che numero di merda ma io l'ho fatti io l'ho fatti anche uno azione vediamo sposati no ma c'è anche questo cazzo di sposi eh mai non mi voglio sposare mi sa però quanti mesi ho di perdito no ragazzi mi organizzo un'alba perché puoi sposarmi in città in tante cose in tante spese non ho voglia ok devi girare bene devi girare bene devi girare forte sei hai guadagnato ma cazzo l'azione ho questo è di nuovo uno smartphone ecco perdi 100.000 euro ma se non ho un smartphone vai vediamo vai vai ricky tocca a te gira 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 forte ho vinto grazie grazie ho guadagnato 200.000 euro te ne ho guadagnato 80 che so raga tu tanti ok adesso ti tocca adesso adesso gira bene niente non è ma io c'ho no vedete nei commenti se è un bug non riesco più a fare di tre io mi sono stoppato vediamo qua cosa mi fa fare a corso online continua la vita no 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 io faccio un bel corso online spendo 100.000 euro però mi faccio dei bei corso online no no sensato artico guarda quanto pago sono 200.000 guadagno ho un nuovo numero fortunato guadagno